Bene, bene, allora avete sentito Nello di Pasquale, ma avremo occasione di riparlare perché siamo a variazioni di bilancio, poi bisognerà fare la finanziaria per l'anno prossimo, quindi ritorneremo in campo. Però torniamo un attimo prima all'amico onorevole Abbate, quando ha fatto cenno delle province. E allora parliamo un attimo delle province perché ci sono delle cose interessanti e anche delle cose che dobbiamo cancellare. Allora, intanto dobbiamo dire che probabilmente tutto l'Iter sta andando abbastanza bene, quindi con molta probabilità si andrà a votare nel prossimo anno per i presidenti delle province. E' anche vero che bisogna capire quali saranno le competenze delle province. Io ricordo che tempo addietro si parlava per esempio le province dovranno rioccuparsi delle strade, le province potrebbero occuparsi anche per esempio dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari, o meglio occuparsi delle case, perché al momento come l'Istituto ha dei commissari, quindi se potesse entrare nell'ambito delle province, quindi quello che conta sono le competenze e i fondi. Poi bisognerebbe parlare di sviluppo economico, bisognerebbe parlare di turismo, perché come vi dicevo non c'è assolutamente più nessuno che si occupa di turismo. Questo è un fatto molto grave. A proposito di turismo, giorno 15 era stata fissata dal direttore generale Nitto Rosso una riunione con tutti i sindaci della provincia per parlare del caso Aeroporto di Conso. Oggi è arrivata la notizia che questa riunione è stata rinviata. Non c'è scritto né come, né quando, né perché, questo è un fatto molto interessante, e quindi probabilmente ci si è resi conto che non è un problema che si può risolvere facendo una chiacchierata fra quattro amici, quattro sindaci, da noi sono dodici sindaci, quindi alla fine sono davvero quattro amici al bar, e non si può risolvere in questo modo, perché poi ogni giorno succedono fatti particolarmente strani. Allora, restiamo su questo argomento. La cosa da capire è perché è stato rinviato. Giorno 16 c'è l'incontro, c'è la protesta ufficiale di quelli del Comitato. Il famoso Comitato che ha già fatto, ha mosso una, c'è un movimento tutto intorno, partecipano i trattori, i forconi, tanti, tanti movimenti. Però abbiamo notato che alcune organizzazioni sono rimaste un po' fredde, per esempio la CNA, per esempio Conf Commercio. Mentre c'è Conf Esercenti, Conf Commercio non sembra abbia dato il suo benestare, o meglio la sua adesione a questa cosa. E poi, come fulmina c'è il sereno, è arrivata questa notizia che riguarda gli ATR di Aereo Italia. Che cosa è successo? Perché questo combinerà un po' di confusione. La notizia che è arrivata ora è che Aereo Italia, la compagnia che è praticamente l'unica compagnia che esiste in questo momento veramente su Comiso, perché ogni giorno volano, più o meno, è successo che, vi ricordate, in questa conferenza stampa, in Trieri, che lo vedete mentre scrive, in Trieri aveva detto la grande novità per cui abbiamo convocato la conferenza stampa è che dalla prossima settimana vi porteremo due aerei, jet, due Embraer, da circa 90 passeggeri, per fare dei servizi su Comiso e saranno servizi che risolveranno tutti i problemi perché faremo Comiso Roma, insomma tante cose. Invece, a un certo punto, invece di portare gli Embraer, sono arrivati gli ATR 600. Cosa sono questi ATR? Sono degli aerei moderni, non pensate, sono aerica, sono aerei molto moderni ma che vengono utilizzati soprattutto per le tratte molto brevi perché sono aerei aerica, viaggiano praticamente a metà della velocità di un jet, questi aerei viaggiano sui 500 km l'ora, mentre un jet viaggia a 800-900 km l'ora, quindi è chiaro che i tempi si raddoppiano quasi, quindi tu fai un volo per, vi posso dire, per Roma è probabile che invece di impiegare i 50 minuti impieghi un'ora e venti, poi volano più bassi, si prendono tutte le perturbazioni, insomma io credo che non è un aereo all'altezza della situazione. Ma nonostante questo, come avete sentito ieri che si parlava con Maneo Chipinti che diceva però i numeri sono buoni, 60 su 68 per andare a Roma, insomma i numeri sono buoni, vuol dire che la gente ha bisogno di volare. Allora la notizia che arriva oggi è che questi ATR sono stati messi a terra, cioè non possono volare e quindi tutto quello che era stato preventivato, che era stato promosso, erano stati venduti anche i biglietti con questi ATR di AeroItalia, non possono volare più. E quindi un'altra ammazzata sull'aeroporto di Comodo, come si dice, ciò piove sul bagnato, quindi un'altra ammazzata potentissima sull'aeroporto di Comodo. Non possono volare perché è stato tolto un certificato, il COA per questi aerei, che in verità sono rumeni. Non possono volare perché, dice, questo aereo ha compiuto l'ultimo volo sul Bologna-Comeso atterrando all'aeroporto siciliano alle 19.24. Poi praticamente manca, c'è a distingare il tutto, c'è un comunicato stampa ripreso da Sicilia in volo, dove AeroItalia spiega che gli aerei operati da AirConnect saranno trasferiti sotto il COA di AeroItalia. Nel frattempo i voli saranno garantiti da altri aeromobili. In pratica, questi aerei volavano con un'autorizzazione rumena, questa autorizzazione non è più valida, gli aerei sono a terra, quindi devono essere trasportati sotto l'autorizzazione di AeroItalia, ma intanto non ci sono. Quindi tutti quei voli che erano stati organizzati con gli ATR devono essere fatti con altri aerei, con cambiamenti di uraio, per esempio il Bergamo che partiva alle 7, ora partiva alle 11. Certo, c'è un po' di casino, non ci sono dubbi, però l'ennesima mazzata sull'aeroporto di Comiso. A questo punto la faccia di Catania dovrebbe in qualche modo, come si dice, no? Dovrebbe un po' vergognarsi, diceva che c'entriamo noi, centrate perché se aveste fatto come era giusto fare investimenti, come si deve, con, non vi dico compagnie come si deve, chiaro Italia è un'ottima compagnia, ma è una piccola compagnia, come ti ripeto, è piccola, c'è niente da fare, non possiamo fare le cose straordinarie, se avessero fatto questo, probabilmente, probabilmente, Comiso si sarebbe ripreso meglio. Allora noi l'appuntamento lo diamo al 16. Purtroppo invece dobbiamo dire che il turismo cresce, e cresce soprattutto per le aree interne, cioè cresce per venire da queste parti, per andare sui Nebrodi, per andare sui Peloridani, per andare sugli Iblei, perché la gente ama le aree interne, chiaramente anche con un po' di cultura, che non fa mai male. Vediamo questo brevissimo servizio sul turismo delle aree interne.